Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Oggi siamo a casetta nonostante ci fossimo lasciati sulla luna Intanto perché si chiedesse cosa è questo è del bellissimo filo spinato che ho messo qui Non vorrei dire per sbaglio perché volevo vedere per terra come fosse però non so più come levarlo Vabbè valuteremo in futuro ma perché siamo realmente a casa Perché anche se nell'ultimo video ci eravamo lasciati appunto sulla luna Io sono tornato a casa in live perché come sempre vi ricordo che c'era live alle 19 quindi anche oggi E abbiamo testato un po' di cose perché qualcuno ha detto Tanino ma perché devi continuare a volare con questa spadina qui e tutto E ho detto sapete che vi dico ragazzi mi avete rotto un casino assurdo No non è vero semplicemente avevate ragione era il caso di tornare a casa E effettivamente cominciare a pensare a usare il creativity jetpack Perché il creativity jetpack mi permette di volare anche nelle dimensioni in cui la gravità è pesantissima Il problema è che andava sigillato e andava messo block reach Cosa che ovviamente ho fatto e potreste pensare che non c'è nulla di difficile ma in verità ho avuto un pochettino di problemi Oltretutto con questo qui sono ragazzi mille volte più veloce e quindi in questo modo non creperò nemmeno Nella dimensione là insomma non mi farà più paura nessun mob Ma c'è anche un piccolo problema Sono estremamente più vulnerabile Cioè lo so che questa armatura qui fa 30 e 8 quindi nulla di eccezionale ma ragazzi prendo un botto di danno Quindi veramente bisogna stare molto molto attenti Ho fatto anche delle missioni sinceramente non ci ho fatto molto caso riguardo a cosa fossero Ah si ho trovato dei nuovi oggetti della Ratland Nulla di eccezionale ragazzi un bottino veramente ottimo devo dire tra l'altro Non mi aspettavo di trovare tutte quelle cose laggiù strasoddisfatto E qua vediamo che sono tutte le cose di questa mod qui Quindi guardate c'è un martello Forse il martello serve per spaccare il filo spinato Boh valuteremo in futuro indubbiamente A parte questo ho provato anche a fare degli altri power up, degli altri upgrade Perché ho detto se io posso avere Unbreaking 1 che può andare a 2, 3, 4 e 5 diventa indistruttibile Come vedete anche qui c'ho l'incantamento Alien e Mundane forse 2 Magari anche un Alien può diventare Alien 2 Magari anche Dramatic può diventare Dramatic 2 e forse 3 E quindi l'incantamento che mi fa aumentare l'armatura O potenzialmente l'incantamento, guardiamo la spada, che mi fa aumentare il danno della spada Sarà sicuramente uno di quelli E magari lo posso portare a livello 2, 3, 4 e perché no 5 Io ho detto quasi quasi metto a testare un pochettino di pezzi Magari c'è il pezzo che se vado a metterci l'armatura qua in mezzo E quel componente lì mi va ad aggiungere questi potenziamenti extra Ne ho provato un pochettino, ho provato a craftare questo qui Che è l'Aurorian Steel Large Plate Non ha funzionato Ho provato con questi Polishing Kit Ragazzi non la conosco tantissimo come mod la Tinker E quindi non so minimamente come fare Se voi sapete qual è il procedimento giusto E soprattutto se esiste ragazzi Per favore passate il live o scrivetemelo nei commenti Perché ho bisogno di sapere se c'è un modo per potenziare questi incantamenti Cioè alla fine per quanto effettivamente questa roba qui sia dell'Aurorian Che è una cosa completamente differente dalla Tinker O dalla Construction Armory Che è quella che poi mi ha permesso di creare realmente questa roba qua Questa armatura Effettivamente Alien è un incantamento che aggiungerà la Construction Armory Come mundane, come drammatico Quindi ci sarà magari un modo per portare a livello 2, livello 3, livello 4 Ragazzi veramente se lo sapete per favore ditemelo Ne ho bisogno Perché qua dobbiamo andare a potenziare ancora di più Le nostre spade potentissime Le nostre armature potentissime Detto questo Episodio d'esplorazione Quindi andremo ovviamente sulla Luna Abbiamo perso anche troppo tempo qui sulla Terra E perfetto è notte Oh che male boia Perché ho preso sto danno a caso? Ah io Oh no ecco vedete E questo è il problema ragazzi Sì ho ripreso danno C'è qualcosa qua Che mi sta sperando un pallino Ma non so Eccolo L'avete visto? L'avete visto? L'avete visto? Eccoli lì Quello lì è il mago Come vedete ragazzi Lancia questa pallina qui E mi fa malissimo E guardate arrivano palline ovunque Tutte le direzioni Ah perché mi inseguono? Ah Perché mi inseguono? E quindi Cioè capite che di notte È un casino di esplorare Io sarò ultra velocissimo Però come potete vedere Queste palline qui Mi stanno inseguendo di cattiveria Allora l'altra volta mi ho esplorato a est Che io non direi di puntare a est E raga fanno malissimo Meno male che ho 3 miliardi di vita Cioè ci rendiamo conto E queste palline qui Forse forse Quell'altra armatura Nemo mi facevano male Però raga non posso volare Cioè va bene tutto Però effettivamente Ammetto che il volo È una cosa estremamente utile E poi guardate Arrivo qui in cima Questa c'è roba buona Nulla di interessante E si va al prossimo Tanto le strutture bene o male Le conosco tutte So già quali sono le ceste più importanti Quindi si va qui Si trovano queste robette di qui Anche molto molto carine di aprire Ragazzi tra l'altro Piccolo spoilerino Prossimamente Episodio Esplorazione Anche perché Ora vi faccio vedere Una cosettina Che magari qualcuno Si aspetta E non ha visto Se vado a prendere Il pet Ad esempio Di Natale E ci clicco Dal 14 Al 25 Dicembre Ora infatti è passato Non posso più Potevo riscattare Dei regalini Ragazzi Io i regalini Li ho presi Ora purtroppo Non tutti i giorni Sarò sincero Non li ho presi tutti i giorni Però li ho presi comunque Una volta al giorno Potevo prendermi il regalino Non avevo soltanto Il regalino di un pet Ma ce l'avevo anche di un altro pet Quindi insomma Vedrete prossimamente Faremo un mega spacchettamento Di tutte le ceste Che ho trovato In questa dimensione Ma anche Dei regalini di Natale Quindi Forse già il prossimo episodio Sarà completamente Dedicato A un piccolo pack opening Comunque Prendiamo la testa qui Ok queste qui ragazzi Sono quelle del formaggio Nemmeno le prendo Queste altre cose Vabbè Posso prendere Il lingottino Ma Finisce lì ecco E per chi dovesse domandarsi Tanino Ma per quanto tempo ancora Vuoi esplorare questa dimensione E cercare dungeon nuovi Ragazzi La dimensione a parte Che è una figata Soprattutto se esplorata di giorno Vabbè Ora è notte purtroppo Ma Cosa importantissima Vi ricordo che In questa dimensione qui Sto cercando Un oggetto particolare È un drop Ultra Mega raro Quindi Non so quanto sia fattibile A trovare Però ecco Mi serve Lo voglio trovare a tutti i costi Qui abbiamo anche una chiesetta L'ho già visitata in passato Mi sa di sì Ok Qua c'era un'altra arma Buonissima E questa ragazzi Tra l'altro Voglio farvela vedere Perché l'ho trovata in live E voi non l'avete ancora vista È una figata E tra l'altro Mi sa che ha pure Degli incantamenti differenti L'altra volta A parte Guardate che cavolo Incantamenti che ha La cosa bella è che Aio Guardate Se clicco il sinistro Posso spammare Queste teste Che vanno addosso ai nemici E danno la peste Cioè Lancia teste Che danno la peste Ed è una cosa Bellissima Cioè oddio no In effetti Detto così Pensandoci Non è una cosa bellissima Però a livello di dinamica In game È una cosa spettacolare La peste Mi avete ricordato voi Che non permette al nemico Di recuperare vita Quindi alcuni mob Che magari recuperano vita In un modo un pochettino Anomalo Ecco Non avranno più speranze Contro di noi E qua c'è un'altra chiesetta Chissà se i drop Sono sempre gli stessi O no Assolutamente sì Ci sono questi liquidi Per purificare Un librettino Totalmente inutile E sempre la stessa arma Che boh A casa ne avevo già una Qua ne ho preso altre due Raga direi basta Non prendiamole più Anzi Li metto direttamente Qua dentro Insieme a questo Resonante conversion kit Che è strabuono Un pochettino Di lingottini tattici E la cassa Ad aprire Comunque sì Come avete visto Alcuni dungeon Hanno effettivamente I drop Praticamente scriptati Quindi o trovi quello O trovi quello Abbiamo anche un mega Filamento di formaggio Cioè è veramente Di formaggio Cioè è tutto formaggio Questo In cima troviamo Delle robe schifose E Oh Ma sbaglio E del corruption set Ma noi già il cappellino Lo avevamo Ah no Ogni volta Ogni volta che lo chiamo Cappellino Non è il cappellino questo Non è il cappellino Sono i pantaloncini Però questo è vero Cioè nel senso È scritto bene Ogni volta ragazzi Cambio versione I nomi sono sempre sbagliati Questo qui è il primo Che trovo Con il nome giusto È incredibile Beh nel dubbio si tiene Anche perché Questa armatura qui È buonissima per essere Disincantata Sopra degli incantamenti Tra l'altro Alcune volte sbagliati Nel senso magari È uno charmes elevatissimo Che non c'entra nulla Però tecnicamente È buono Tu cos'è che mi offri? Allora Cheesy cake No grazie No schifezze Però questo qui È un totem Oh ragà Questo qui è il totem Per far sponare il boss Che avete visto voi Che mi aveva levato l'armatura E appunto Mi aveva chillato Ah E ho fatto anche una missione Perché se non ricordo male Doveva essere Una missione The moon Eccolo qua Cassettina Soldini E me ne mancano altri due Mi manca questo qui Che è il god king E poi questo qua Che è Eterial wizard Ok Quello che ci aveva chillato noi Era l'Eterial wizard Mentre qua abbiamo trovato Il ratland Va benissimo ragazzi Collezioniamoli tutti e tre E poi proveremo anche Ad affrontarli Non so se sono i boss standard O se hanno tipo qualcosa di Boh Piopi Strano Diverso anche esteticamente Lo vedremo in futuro Comunque contentissimo Di averlo trovato Un altro tempettino C'è soltanto una cesta anche qui Eh Questo qui tecnicamente Mi avete anche detto che è buono Però ne ho così tanto ragazzi Che non lo prendo Si trovano tantissimi Upgrade Resonant Ottimo E se è chiaro Però ne ho presi anche troppi E Bah Non penso che li userò mai Questo qua invece Abbiamo visto che era un mega trappolone Tra l'altro Non bypassabile Se non ricordo male Perché vedete Tutto completamente protetto Ma ci sarà il modo Di bypassarlo Di cattiveria Aio Perché c'erano alcune cose Che se non ricordo male Ok Non erano proprio al massimo Tipo qui dentro c'era la roba Si attivava col filo E vabbè Il buco nero Tecnicamente dovrebbe killarmi Ma ragazzi Non mi ucciderà mai il buco nero Perché noi siamo troppo avanti Ok Userò il pet Ehm Si con la mia armatura originale Non mi killava Ma anche in questo modo qui ragazzi Guardate Ah che bella A parte che c'è così tanta vita Che secondo me Non ci sarebbe mai Poi mai riuscito Comunque Stiamo attenti Perché è pieno di trappoloni Qua già la posso aprire Quindi Robettine interessante Davide non plating No No Queste robe qua Nient'altro Soltanto una cassa Che poi tra l'altro Questa è una loot crate Mentre questa qui era l'extraterrestrial E questa era l'extraterrestrial Scritta male Va bene Ragazzi La loot crate È differente Dall'extraterrestrial E se non sbaglio Non ne abbiamo nemmeno Perché sono ultra ultra rare Ora andiamo a vedere Questa qui Subito da mettere In nostro magazzino segreto Della duplicazione Legit Delle cose Esatto Loot crate Mi esce soltanto questa Che tra l'altro Ho trovato anche questa qui Sulla luna Mi sembra E in verità Anche l'extraterrestrial Mi dice che ne ho una No ragazzi Siano sicuro di averne 2000 Perché probabilmente Si chiamano in quest'altro modo Quelle che ho Sono tutte buggate Eccole qua Mille mille Sono extraterrestrial Cache Ah perché sono scritte male Queste qui sono extra Mentre qui sono extra Ma che cavolo Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Era scritto malissimo Mentre Qua sono scritte male In un altro modo Bisogna su loot crate Ok qua mi fa vedere Il loot dell'extraterrestrial Qua delle common Qua non c'entra nulla Master Rare Unclaimed Antirelazione Cultist Questo qua Non mi ricordo Forse se ne ho trovate Non mi ricordo Magica No In verità No hanno cambiato nome Sono sempre le stesse Sapete che sono Straconfuso Ma nel dubbio Mi va bene averla presa Anzi intanto Le metto via Perché qua C'ho troppe cose Questi qui Questi qui sono buonissimi Praticamente Hanno una cesta Così in cima Tra l'altro In genere C'è anche roba buona In questo caso qui Nulla di eccezionale Sì Ci hanno lo spawner Tra l'altro Non so nemmeno di cosa Penso siano sempre ratti Alla fine Vabbè Facciamo che non mi interessa Nemmeno Invece mi interessa No 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 Sono quelli che sciottano Sono quelli che sciottano Allontaniamoci E nulla ragazzotti Così Se arriva lì Si piglia la cesta in cima E ciaone Questo qui Quello dove siamo spawnati Tecnicamente Non c'era nulla Ma a me servono Le torrettine Non quelle lì Quelle tutte colorate Quelle tipo I stile Castello di ghiaccio Della twilight Quelle son buone Oppure rega No mamma mia Guardate che vetro bellissimo Ok io questo vetro qui L'avevo già visto Me ne sono innamorato In questo caso qui È tutto monocolore Ma tecnicamente Dovrebbe essere con più colori Il fatto cos'è Che si distogge con un click E non lo posso nemmeno riottenere Vabbè Lasciamo stare Usa sul tavolo Della tinker Non l'ho mai trovata Sta roba Beh la prendo Mentre questo Cos'è vuoto Sì ok Quindi non mi interessa Ma signori Sotto ci sono altre chest Sì con delle schifezze A che uso di tinker table Non lo so rega Io non so cosa sia Ma poi che mod è questa La machine muses Ma che cosa Non l'ho mai vista Ve lo giuro Non pensavo nemmeno ci fosse Qua stanno producendo cose strane E qua sotto Solo schifezze No rega Io non mi arrendo Fino a che non trovo quei dungeon Comunque Qui in alto di questi Beh apro solo l'accesso sopra Tanto ho capito che quella buona Potenzialmente quella è basta Tantissime spade indistruttibili Devo dire Però Non mi interessano particolarmente Molto buone 40 di danno Però comunque le mie sono meglio E riguardo gli incantamenti Ho visto solo incantamenti schifosi Non ho visto nemmeno un incantamento buono E tra l'altro È sempre lo stesso che si ripete Non benissimo Non benissimo Altra cesta lezza Loot crate Queste assolutamente sì Qua sempre In senso incantamento come avete visto E schifezze varie Altra exaterrestrial Buone Queste qua Di questa qui soltanto una ce ne avevo Tra l'altro ragazzotti Nel magazzino della duplicazione Chiamalo così Ci ho messo Oh anche questo qui è molto carino Ma no grazie Ci ho messo dentro Un Una cassa Molto molto particolare Che spero veramente Che il mago faccia il suo dovere Praticamente Ne avevo trovate due Uno l'aperta E c'è scritto che davano Gli oggetti master Di questa mod Ovvero dell'electro bob E io pensavo fossero libri Ma ho detto Vabbè dai sì La buona volta che finalmente Prendo tutti i libri che mi mancano Invece no Cioè magari da pure i libri E ci mancarebbe Ma mi dava proprio Gli oggetti master Che sono una cosa Completamente a parte Quindi veramente Spero di ottenerne un bel po' E di riuscire Ad aprirne veramente tante Infatti il video Volevo farlo oggi Quello dell'apertura dei pacchetti Però purtroppo Non ne ho tante Quindi Raga bisogna aspettare Volevo fare il pack opening Di Natale Anche se Natale è passato Probabilmente sarà il pack opening Dell'anno nuovo Mettiamola così Oh Questo Cos'è Allora Aurora blocca Aurora pillar Ci sono i pillar Bellissimi La testa lì non mi interessa No Questo è una porta No Era Invece lo è Lo è Lo è Lo è Ditemi di sì Mamma mia ragazzi Che bello Twilight forest Blu No vabbè Bellissimo Bellissimo Questi Subito da mettere a qualche parte Casetta Sembra la torre del mago E guardate il baguettino È la torre del mago Effettivamente Ah ok Ma non mi danno la decisionale C'è quello di da rubacchiare Ma l'ho già rubacchiato Mentre tu Caro mio Mi scambi cose Per caso O sei Ah io Non gli dovevo rompere Mamma mia Il danno Eh no Allora se gli rompiamo La struttura Si incazzano Quindi ce lo siamo giocato Scusatemi Mamma mia Undici di queste Che poi alla fine Raccato tutte Tranne quelle del formaggio Che come ho già detto Fanno schifissimo E sto vedendo anche Una gran scorta Di queste qua Ora non che me ne servono Chissà quante Ne ho già mille Però oh raga Un M più Non fa di certo male Ah guardate un pochettino qua Spadina Moon King Con vari incantamenti buoni Allora io quelle Quelle di vetro Normalmente Non le prendo Perché non hanno incantamenti Però tutte le cose incantate Come sempre Ovviamente Si fa piazza pulita Quindi oggi La cosa più rara Che ho trovato Per ora è stato Questo totem Per far suonare il boss Però allora Io sinceramente Puntava qualcosa Di un pochettino Più goloso Ora non ve lo vorrei dire così Però è la verità Cos'è Non l'ho mai visto Questo sono i blocchi I blocchi che piacciono a me Quelli della Twilight E qua dentro C'è un buco C'è un pochettino qua E lì c'è un qualcosa Per far sponare un boss Mi sa Ehm Ah Eccola qui L'entrata Mamma mia raga Ma c'è da avere paura qui Entriamo Ma io Ve lo giuro Ho paurissima Qua se c'è un mob davanti Raga Eh madonna Già li sento Raga Il fatto è che Già li sento Ho rotto tutto Intanto Allora Prima cosa Blecco il pet E l'ho attivato Seconda cosa Qua chest Con delle schifezze dentro Ma lo smeraldo Lo prendo Blocchi in mano Destra sinistra Non c'è nulla Destra sinistra Non c'è nulla Ok Non so di cosa siano Questi spawner Ma raga È meglio levarli Il prima possibile Veramente Eh no Ho visto di cosa sono Se non spawnano Ste cose è meglio Raga Se non spawnano Ste cose è meglio Levati tutti No per niente Stiamo attentissimi Ok Zona Direi più o meno safe Qua God King Quindi Ok abbiamo trovato Il tempio di God King Che tra l'altro Non si era mai trovato Perché io questo posto qui Non l'ho mai visto Ci sono altri spawner Ci sono altri spawner Cosa importantissima Mi salvo il posto Perché secondo me Ne avremo bisogno in futuro Lo vedo Lo vedo un po' troppo Troppo raro Questo robo Waypoint Nuovo God King Salviamolo Perfetto Allora Esaminiamo un attimo L'altra volta abbiamo trovato Un coso tipo in stile SCP Vediamo stavolta Cos'è questa roba Tra l'altro Ok Nelle chest Sono strapiene di roba E potenzialmente Anche roba interessante Da questa parte qui Sento che c'è un casino Assurdo di rumori E quindi vuol dire Che c'è una caverna Però Ragazzi Ma io non andaci Cioè Le caverne così Veramente Fidatevi di me Non sono esplorare Vado lì Sono incastrato C'è il mob Mi sciotta Punto Cioè Non ho speranze Di farcela Quindi Ignoriamo Completamente Qualsiasi posto Diverso Dalla struttura Direttamente così Devo dire che Queste qui Sono uccelle Ma Non c'è nulla Cioè Nel senso Sono completamente Vuote Qua c'è un'altra chest Potrebbe essere buono Questo coso qui Però insomma Vabbè Lo prendo E Draina la vita C'è scritto Quindi Andrà a succhiare la vita Ai nemici Penso Penso di sì Qua Schifezze E da quest'altro lato Sembrerebbe Proprio Non esserci Niente Tranne questo spawner Da allevare Ok Ragazzi Zero proprio Qui però Altro spawner Tanti altri spawner Altro che Doppio chest Con Oh mio dio Tantissimi Blocchi Diamante Ragazzi Questi sono effettivamente Golosi E Una spara Dreaded queen Già ce l'avevamo Ma ne abbiamo solo dato una Non l'ho nemmeno mai disincantata Ok Meno male che non ha la peste Sto coso Beh Quella va presa Qua Robettina In nederite Ragazzi In nederite Una cosa rarissima La prendo Nel dubbio Perché veramente In nederite Non abbiamo nemmeno un pezzettino Non che ci serva realmente Però Ecco Sì Sicuramente è buono Da prendere Magari potremo Riottenere le nederite Ripeto È rarissima Non penso di averla No l'ho trovata mezza volta No L'ho trovata dalle ceste ragazzi Vi ricordate l'episodio Alla ricerca della nederite Non se l'ha trovato Nemmeno un pezzettino Non mi ricordo come l'avevo ottenuta Forse Dalle ceste O Veramente Non mi ricordo proprio Ma è Praticamente impossibile ottenere Cioè nel mondo Non spona la nederite Quindi Avere un pezzettino così Ecco Potrebbe essere una buona cosa Una cassa Schifezze varie Leva a tirare Che Mi sa che non ha fatto niente Vabbè Perché però Lo luogo lui spona C'è aspetta di nederite Ragazzi Non mi lamento Tantissimi spawner 32 blocchi Diamante Oggetti un pochettino rari Alcuni un pochettino di più Altri un pochettino di meno Devo dire Nulla di così buono Da dire Cavolo Devo assolutamente andarci Però mi ha fatto piacere Trovare un dungeon Diverso Con soprattutto roba Potenzialmente buona Anche da far spawnare Purtroppo Non abbiamo Questo tipo qua Tra l'altro Chissà se funziona veramente Il portale qua dietro Non lo voglio scoprire Non lo voglio scoprire Direi che comunque Questo dungeon qui L'abbiamo affrontato Ragazzi usciamo E vediamo se Nell'intorno c'è altro Oppure no Che poi pensandoci bene La torre che stavo cercando io Anzi che sto cercando io È lo spawn di un boss E non avendo mai trovato Quel boss lì sotto terra Mi sa che sono proprio Le torri dei boss Che hanno i loot Che sto cercando io Ma sono anche le torri O comunque le strutture Dei boss in generale Ad essere ultra rare Infatti ragazzi Ne ho trovate tipo pochissimo Ho trovato quella là Questa qui sotto terra E poi La terza Perché sono tre i boss Non so nemmeno se l'ho mai trovata Forse sì Forse no Non mi ricordo E nemmeno l'ho salvato Perché ho dato proprio importanza zero Quella struttura Ho detto va L'ho trovata così Sarà una struttura delitante Che ci sono Invece no ragazzotti Le strutture dei boss Sono rarissime E sono quelle proprio Che sto cercando io Mamma mia Veramente Ma invece qua Raga scusate Ma Ora che ci penso E vabbè No 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 Non mi avrai mai Non mi avrai mai Ok se rimane così Non mi fa nulla Stavo pensando No effettivamente È vero che sono protetti fuori Da queste barri invisibili Però internamente No posso direttamente Brasare tutto Devo soltanto Trovare il modo Di farla attivare Da più lontano La trappola Così proprio Mi risparmio Tutto quanto Vabbè Ormai ci siamo Schifezze Come sempre Tranne la chest Quella è buona Uh La casettina Però alla fine A noi non ci interessa Guardiamo soltanto qua sopra Assolutamente Da prendere Il cervelletto qui E poi Mi sa Che non c'è altro Questo ragazzi Non è un vero e proprio dungeon Cioè È semplicemente Un posto Dove ci sanno Due chest Dentro il numero Anzi tre chest Ma veramente Non grazie Beh oddio Fino un certo punto Questo L'ho preso Più che volentieri Io ho esplorato Per qualcosa Come 25.000 blocchi E non è uno scherzo Si vede anche Sulla minimappa E non ho trovato Altre strutture buone Sicuramente ci sono Non lo metto in dubbio Però veramente Ragazzi Sono un disastro Da trovare Cioè la maggior parte Sono queste cose qui Che sì Magari C'è qualche Una cosa Un blocco da prendere Però nulla di eccezionale Boh ora ok Giustamente l'ho detto Le trovo ora Però anche qui Cosa ci sarà mai Schifezze Una chest così Da aprire Un martelletto Che in verità Ce l'ho già E non mi interessa Ragazzi Niente più Roba buona Quindi Io Per il momento Mi fermerei qui In live Ovviamente Continueremo l'esplorazione E spero veramente Mi ci metto Due ore Fino a che non trovo Quello che sto cercando Cioè è incredibile Devo averlo Assolutamente O perlomeno Vorrei trovare qualche altra struttura Perché ho visto che comunque ci sono cose che ancora non ho trovato Come ad esempio quello sotto terra Che era la prima che trovavo Ecco Chissà quante altre cose ancora ci sono Da scoprire Detto questo ragazzotti però Io mi fermo qui Veramente Spero che questo video lezzissimo Vi sia piaciuto Ci si vede in live E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti